Diverse zone della città di Campobasso questa mattina sono rimaste senza acqua fino alle 7.45 con un oggettivo di servizio che ha creato moltissimi disagi ai cittadini che si stavano preparando per andare a lavorare o per accompagnare i figli a scuola. Le chiusure sono ormai all'ordine del giorno, anzi della notte. Dalle 23 alle 5 sono previste ormai da settimane, ma stamattina si è andati troppo oltre. L'ennesimo disguido di comunicazione e anche di incompetenza. Anche a casa mia alle 6.30 l'acqua ancora non c'era, mi sono subito attivata e ho saputo che l'operatore incaricato da Molise Acqua per aprire i serbatoi di Cese Basso e Calvario non lo ha fatto in tempo utile. Quindi sono stati aperti molto in ritardo delle case di arrivata l'acqua tra le 7.30 e le 8 del mattino e in alcuni casi anche più tardi. Non è possibile, non è assolutamente tollerabile che ci sia un solo operatore per aprire l'acqua e per motivi personali non lo ha fatto. Quindi non possiamo assolutamente più tollerare questa incompetenza di Molise Acqua e di Grimm. Noi avvieremo un'azione legale, un'azione esercitoria a difesa dei diritti dei nostri concittadini, sia contro Molise Acqua che contro la Grimm. Anche una class action se sarà necessario. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, nonché ex sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha depositato un'interrogazione urgente al presidente della regione, Roberti, e al consigliere delegato, Sabusco. Per conoscere innanzitutto di chi sia la responsabilità dei problemi che si sono registrati questa mattina, per conoscere se c'è un rapporto di convenzione tra Molise Acqua e Grimm, come avviene per la città di Benevento, dove inspiegabilmente abbiamo ridotto la flusso idrico, ma non ci risulta che ci siano state, ci siano delle interruzioni del flusso idrico durante la notte, cosa che avviene a Campobasso ormai da mesi, conoscere anche la situazione debitoria con la regione Molise rispetto a Molise Acqua, che sappiamo era stata diffusa la notizia di oltre 4 milioni e mezzo di euro che la regione deve al Molise Acqua per lavori svolti anni fa.